io non torno indietro. Nella Bibbia c'è un eterno scontro tra Dio e il suo popolo ed è sulla direzione di marcia. Yahweh spinge in avanti, gli israeliti vogliono sempre tornare indietro, rimpiangono sempre il passato. Perfino davanti alla liberazione della schiavitù del Faraone, quelli rimpiangevano le cipolle d'Egitto. Al tempo dei profeti tutti gli idoli dei popoli vicini, che erano fatti di pietra, di legno, sembravano agli ebrei meglio del Dio vivente. E temo che per noi contemporanei non sia cambiato molto. Andando avanti, speriamo, e lo diciamo, di tornare indietro come prima. Forse intendiamo prima del Covid. Comunque l'importante è tornare indietro. Solo nel 2023 torneremo al PIL del 2019, ripetono gli economisti, preoccupati come sempre. E come ci torneremo? Chiedo io. Torneremo a quel sacco di gente che evade le tasse e paga i dipendenti poco e in nero? Torneremo facendo raccogliere pomodori a schiavi che vivono in Italia peggio che in Africa? O lì siamo già tornati. Anzi, Lukashenko si è inventato questo. Siamo in Bielorussia. Fa pagare il viaggio aereo ai migranti. Appena arrivano, li spinge a bastonate al confine. E i cristianissimi polacchi li accolgono con gli idranti con dieci gradi sotto zero. Non so se mi spiego. Ogni goccia è una vera pallotola. Beh, io non voglio tornare là. Torniamo presto. Torniamo alle nostre vecchie vite, a bloccare nel gelo alla frontiera chi arriva senza scarpe, a lasciare senza acqua chi scappa attraversando il deserto, a lasciare nell'acqua chi si è caricato o è stato caricato a forza su gommoni sgonfi. Quelli vanno respinti. Noi abbiamo bisogno di rilancio economico. Lasciamo che tornino i Führer, che oggi chiamiamo ipocritamente sovranisti, in gran parte del mondo. Lasciamo che tornino a dominare bugie e corruzione. E la democrazia neoliberista. Ora detta anche spudoratamente democrazia illiberale. Le parole. Sì, torniamo. Ma solo per renderci conto che noi ci siamo chiusi in un ghetto che chiamiamo occidente opulento, o opulento per pochi, si capisce. Noi siamo solo la tribù dei bianchi nella nostra riserva e che il mondo va avanti senza di noi, è meglio che non con noi. Io non voglio tornare là. Non possiamo tornare a una vita normale. Perché quella che in passato chiamavamo vita normale, dopo questi anni non esiste più. No, la verità è che non vale la pena di tornare. Il desiderio che spinge interi popoli alla migrazione è quello vincente. Quella è la spinta vitale per affrontare il tunnel in cui ci siamo ficcati. Siamo chiamati tutti a una nuova migrazione, almeno culturale. Sarebbe meglio spirituale. è arrivato il momento di spingerci oltre, altro che tornare, di scalare la montagna, di lasciare le divinità dell'economia usa e getta, per rimettere al centro, dove adesso e da tanti decenni teniamo i soldi, rimettere lì la persona, la persona umana e il Vangelo. Se Dio spinge avanti, come fa un credente a voler tornare indietro? No, sia ben chiaro. Io sto con il Dio di Abramo, di Giacobbe, dei profeti, con l'uomo nuovo che è Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi. Voi pensate davvero che i petrolchimici, i giganti dell'informatica, possono davvero offrirci qualcosa di meglio? Io non torno indietro.